Possiamo dire che tu un po' ti senti sardo? Sicuramente sì, sono 14 anni che sto qui, la mia famiglia è qui, quindi adozione dai! E allora te la senti di fare anche un saluto in sardo ai tifosi del Cagliari? Il sardo ancora lo capisco ma non riesco a parlarlo, però gli faccio comunque un grande saluto, un grande abbraccio da parte di Daniele Conti e li aspettiamo comunque tutti lunedì contro il Napoli. Ecco, lo sapevo! Dai, buttati una parola in sardo! No, no, aglio! I tifosi, i tuoi tifosi sono lì, fagli una dedica, un saluto anche in sardo se vuoi. No, mandargli un grande abbraccio, sperare di continuare questa striccia positiva che abbiamo cominciato con il Bologna e niente, aglio! La mia dedica è a casa, al parco, per radio o allo stadio, augurandoci che sia aperto, di stare vicino a noi, al Cagliari e soprattutto anche al Presidente. Grazie per la visione!